Buongiorno a tutti. L'Associazione Palazza San Giovanni invita partecipanti a rispettare le norme di prevenzione Covid-19. Tutti i trasgressori saranno puniti a norma di vincere. Nel caso di emergenza seguire le indicazioni del personale certi posto all'accesso dei barchi con vettorina di colore nero. Le vie di fuga sono poste sui marciapieni. Nel caso di incendio è posto un estintore di emergenza a Civico 60. Adesso si parte. Presentiamo il nostro staff, cantanti, Angelo De Stefano, Esuardo Pilattile, Antonio Imperiuno, musicati, Franco Manco, parte la musica del raccomandato come se fosse domanda. Buongiorno a tutti. Eccoci. Siamo adottati. Brava, giallo, blu. Buongiorno a Passavattore finalmente. Viva Passavattore e viva da San Giovanni. Buongiorno a Passavattore. Non è verità Non siamo Paglia, ne è un sincero Ma non vi c'è nuova S'è anche io mi sessere La scatta La città Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Invitiamo il sindaco e l'amministrazione comunale per uno stando di doni con il presidente Edoardo Cicchio. Invitiamo il sindaco e l'amministrazione comunale per uno stando di doni con il sindaco di doni con il sindaco di doni con il sindaco di doni. Grazie a tutti.